Alvia il Trani Film Festival, ieri a Barletta, l'apertura alla multisala Paulillo con la proiezione di Tenebra, con la partecipazione della regista e delle attrici, Tonia De Micco ed Elisa Del Genio. Ci stiamo sforzando di ampliare l'organizzazione a tutto il territorio BAT, al capoluogo BAT, concependolo come un'unica città, perché riteniamo che la cultura, in particolar modo la cultura cinematografica, possa essere un volano anche per cambiare l'approccio verso una dimensione proprio cittadina. Finalmente abbiamo fatto delle edizioni online però molto penalizzanti e soprattutto ci tengo a ringraziare e a dire che facciamo parte della Puglia Cine Festival Network, che è un network molto importante, regionale, che unisce una serie di festival e soprattutto ringraziare la Puglia Film Commission e ovviamente tutti i partner, che non ultimo, anzi grande importanza anche alla multisala Paulillo che ci ospita. In questo film interpreto Giulia, che è una giovane madre che ha sofferto durante l'infanzia per abusi fisici, sessuali e la sua storia è appunto una storia molto tormentata che poi nel corso del film ritroverà delle similitudini insieme all'altra protagonista che è Marta, insieme poi sceglieranno strade completamente diverse per affrontare questo trauma. Per me una difficoltà è stata proprio quella di sentire questa pesantezza e affrontarlo anche con qualcosa di leggero, questo argomento che tutto è tranne che leggero. Io interpreto il loro di Marta, che ha una vita molto complicata, poiché il padre purtroppo ha avuto dei comportamenti nei suoi confronti abbastanza violenti, poi la mamma non c'era più, quindi ha avuto una vita abbastanza turbolenta e come si vedrà poi nel film avrà questo percorso simile a quello di Tonia, di Giulia, che però avrà una fine diversa. Quindi il mio personaggio è un personaggio molto complesso che poi avrà una vita molto complessa. Come fai invece a conciliare la tua vita di 15enne spensierata con questo impegno professionale? A dire la verità per me è molto semplice, poiché i miei professori, la mia scuola mi dà un sacco di libertà su questa cosa. Certamente devo continuare a studiare ed è quello che sto facendo, quindi riesco a conciliare bene le due cose. Però sì, a volte ho avuto delle difficoltà nello studio, però poi mi sono sempre ripresa. Grazie.